Cattaneo non è che ha detto una roba fuori dal mondo per quanto concerne Forza Italia, noi e come Forza Italia Antonio Tagliani ha sempre spiegato che noi siamo contrari in sé per sé al concetto di MES che è un paragatute o che è una cura tumorale se c'è il tumore, quindi se c'è una crisi dei mercati. Il problema che noi abbiamo sempre posto è il controllo di cui ne è privato sia il Parlamento europeo che la Commissione, quindi noi abbiamo sempre fatto un problema di carattere tecnico. Comunque in tutti i casi è stato detto anche da Salvini, sono sentito poc'anzi nel servizio, quando si arriverà al nodo il centrodestra prenderà la sua decisione. Per questo che non c'era nessuno ieri in Commissione? No, ma effettivamente sono tecnicismi complicati poi da spiegare o da comprendere. In realtà c'è una quota di PDL, in questo caso sul MES, quindi per la ratifica, c'è una quota nel calendario delle attività parlamentari diviso fra opposizioni e maggioranza, quindi non è un problema quello che è accaduto ieri, si prenderanno le decisioni al momento opportuno. Io voglio aggiungere solo una cosa, sul tavolo in Europa c'è un dibattito molto ampio su problematiche di carattere economico-finanziario, sia attuali PNR, PNRR ad esempio, quindi nelle prossime settimane sarà chiara anche la posizione italiana su alcune richieste di modifica, ma ci sono sul tavolo tutta un'altra serie di cose e di dibattiti, ad esempio il patto di stabilità dove alcuni paesi, vedi la Germania, lo vuole in un certo modo, insomma ci sono una serie di questioni sul tavolo dove il governo italiano, e la Meloni sembra molto attiva per quanto concerne i rapporti e le relazioni internazionali, quindi si sta dibattendo di una rosa di questioni, una delle quali è il MES, siamo coscienti che l'Italia diede un parere favorevole a suo tempo, siamo consapevoli che molti paesi in Europa hanno già firmato questo, chiamiamolo, accordo, e adesso arriveremo anche a una conclusione, insomma non mi sembra che sia tutto sto dramma. Insomma però è arrivato anche il parere tecnico del capo di gabinetto di Giorgetti, che anche ieri ha fatto, poi la politica dice quello però è un parere deciso della politica, è arrivato già, è arrivato e se ne prende atto, quando? Sei mesi fa, ieri, quindi voglio dire, non mi sembra che sia... Che tempi ci sono? Io credo che sono tempi abbastanza stretti, non è che si può andare avanti con questo trick e track ancora per tre mesi, però non è questo il tema, voglio dire, secondo me, io capisco che gli uccellacci del malagurio, che ovvio in politica ci debbano essere, la voglio dire scherzosamente, quindi fra maggioranza... Io potrei anche giocare sul fatto che ieri questa opposizione non mi è sembrata così unita, visto che i Cinque Stelle non hanno... L'avete trovato l'accordo sul commissario per l'Emilia Romagna? Visto che ieri dovrà essere un altro punto... Io credo che si arriverà anche a questo a breve, peraltro ho ascoltato le sue parole che la Giorgia Meroni ieri non era lì in Consiglio dei Ministri e magari i problemi erano di carattere politico, da quello che risulta aveva delle problematiche di carattere personale e non ha partecipato e verrà spostata ai prossimi giorni. A martedì il Consiglio dei Ministri, è una lettura che non condivide, immagino. Beh, insomma, non sarà mai vista la maggioranza che va sulla ventura?